Diretta da, non so, da quel posto, The Blair Witch Project 2, e il cane? E lì, sì. Vabbè, noi volevamo salutarvi perché non sappiamo se riusciremo ad uscire mai da questo bianco. Non so, ci hanno detto di andare da dentro, ma è tutto bianco. In teoria in 15 minuti arriveremo a una specie di rifugio, una capanna mara. Capanna mara. Dopodiché noi riusciremo a scendere, forse a raggiungere il parcheggio. Perché mi tiene? Perché non ce la faccio più. Cominiamo, sono le 13.49 e siamo partite dalla macchina alle 10. Sì, dovevamo essere... Favamo in diretto tranquillo stamattina. In due ore e mezza aver fatto l'anello e invece siamo ancora qua. Perdetevi con noi, dai, è stato bello. Lo stai andando tu? Venite, venite con noi nella nostra cucina. Guardate che bello, nel nulla. Ciao. Ciao.